Idee di business, avviare una scuola online. Oggi rispondo a Stefano che mi chiede Ciao Massimo, ho 15 anni e io quando leggo dei ragazzini così giovani che già si interessano al business veramente vado in brodo di giugiole. Stefano per curiosità ti chiedo se ti va di scrivermelo nei commenti o via mail, come sei venuto a conoscenza mia delle mie pillole di business, ti ringrazio che lo sfrutto per capire un po' da dove mi conoscono i ragazzi giovani come te. In ogni caso Ciao Massimo, ho 15 anni e mi sto piano piano indirizzando verso il mondo del business. E ripro a 15 anni è fantastico. La mia domanda è, credi che il business delle scuole online di qualunque genere, che sia studio, sport, svago, eccetera, sia un'idea da tenere in considerazione, che possa fruttare denaro e che sia un settore che si possa sviluppare negli anni? Grazie mille, buona giornata. Allora, sicuramente le scuole online e tutto ciò che riguarda la formazione online sicuramente continuerà a crescere negli anni perché la scuola che abbiamo oggi, quindi le università, non sono abbastanza veloce nell'aggiornarsi per riuscire a fornire un tipo di formazione che nella maggior parte dei lavori è necessaria, per cui assolutamente, a mio avviso, il futuro sarà tutto integrato con una parte online perché davvero la scuola non riesce a stare dietro all'evoluzione che abbiamo, per cui assolutamente sì. E la mia visione a lungo periodo è che ci saranno uno o due grandi player, quindi un paio di aziende che deterranno la maggior parte del mercato e poi ci saranno alcuni settori molto di nicchia, molto ristretti, come tu ad esempio iscritto, che sia studio, sport, svago, eccetera, quindi qualcosa mirato, uno sport specifico, ad esempio il golf, ci sono già tanti corsi di golf che vengono venduti online e considerando che le persone hanno sempre meno voglia di uscire, di sbattersi e che vogliono tutto subito e con il minor sforzo possibile, ecco che le scuole online da questo punto di vista, quindi tutti corsi online, formazione online sicuramente ha un grandissimo vantaggio sotto questo aspetto. Mi chiede poi se effettivamente posso affruttare denaro? Assolutamente sì, ci sono già tantissimi, tipo Udemy, che appunto vendono i corsi, delle persone che possono caricare qualunque tipo di corso per qualunque tipo di settore, incassano i soldi, danno una provvisione al titolare del corso, a chi l'ha creato, al creatore del corso e si tengono appunto una loro parte. Sono business già avviati, guadagnano tanto, ci sono grandi numeri e quindi assolutamente un business che nel futuro non potrà far altro che crescere. Il problema di questo tipo di attività è la partenza, perché inizi che non sei nessuno, non hai contenuto, è difficile riuscire a vendere un corso, convincere le persone ad acquistare il tuo corso se non hai creato un po' di autorità, di autorevolezza nei tuoi confronti. E quindi diciamo che è un pochino difficile l'inizio, ma a mio avviso sicuramente un'idea molto interessante, anche perché uno, è scalabile, quindi puoi vendere un corso, mille corsi, con la stessa difficoltà, quindi è un grandissimo potenziale economico. Due, riesci anche a mettere in leva il tuo tempo, perché se raccogli corsi di altri professionisti, tu praticamente a costo zero metti solo a disposizione la piattaforma e incassi i soldi, quindi assolutamente può essere un'ottima opportunità. Va costruito e sviluppato bene, bisogna costruire un brand molto forte in modo che diventi poi un sinonimo di qualità, ad esempio in Italia abbiamo corsi.it, molto conosciuto, vende tantissimi corsi, soprattutto corsi a basso costo, però la logica è sempre quella. Quindi per rispondere alla tua domanda assolutamente si prende in considerazione, valuta i pro e i contro, quello che richiede svilupparlo e poi tra le tue conclusioni. Sei ancora giovanissimo, quindi sono sicuro che di idee e di opportunità di business ne troverai veramente infinite, perché se già a 15 anni sei orientato sotto questo aspetto avrai un successo incredibile. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani, ciao! Aggiungo, ci tengo ad aggiungere un'ultima piccola cosa importantissima, spesso sottovalutata, perché si tiene in considerazione la possibilità di riuscire a guadagnare dalla propria idea di business, che per carità giustissimo, altrimenti non sarebbe un business, però dobbiamo ricordare che ciò che ne andiamo a fare deve migliorare la vita delle persone, perché solo grazie a questo riusciremo poi a vendere e a trasformare, quindi quello che noi facciamo anche in un ritorno economico. Assolutamente importante. Prima di salutarti ti invito ad iscriverti alle mie pillole di business via mail, tutte le mattine alle 7 riceverai una mail riguardante marketing, business e crescita personale, è gratis, ci si iscrive con un click, se non ti piace ti si cancella con un click, per cui pillole di business.com corri ad iscriverti. Con questo è tutto davvero e ti saluto, ciao!